Evangelion Evangelion è un ciclo di 28 piccoli pezzi per pianoforte scritti da Mario Castelnomo Tedesco che è stato uno dei grandi compositori italiani del Novecento ed è singolare come appunto un ebreo scrisse una vita di Gesù in musica per pianoforte Evangelion è quindi un'opera molto compatta, molto intensa e di una musicalità assolutamente straordinaria il compositore stesso volle che si aggiungesse una voce recitante alla musica pianistica abbiamo pensato a una grande voce, una grande attrice italiana che è Claudia Cole grande esperta anche di testi sacri e Claudia ha accettato subito con grande entusiasmo di partecipare a questo spettacolo che abbiamo costruito proprio insieme diede alla luce il suo figlio primogenito lo abolse in fasce e lo pose in una mangiatoia perché per loro non c'era posto nell'alloggio abbiamo davvero trasformato proprio lo spazio scenico attraverso delle proiezioni, delle installazioni con degli speciali schermi trasparenti fatti di tulle queste immagini davvero forti sono come un fluido emozionale che aiutano il pubblico proprio a seguire la storia di Gesù che è una storia davvero straordinaria, ricca di eventi, di emozioni di grandissima passione, di grandissima intensità l'obiettivo dello spettacolo Evangelion è quello di valorizzare lo spazio dove andiamo a farlo ma anche proprio trasfigurarlo, quindi illuminarlo, colorarlo renderlo partecipato da parte del pubblico Evangelion è per tutti e chiunque può assaporare questa esperienza multisensoriale all'interno di un viaggio davvero affascinante fate discepoli tutti i popoli battenzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato ed ecco io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo grazie 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 grazie